Ciao ragazzi, in questo video parliamo dei regni ellenistici, ovvero quei regni nati dalla spartizione del vasto impero conquistato da Alessandro Magno, ma anche della cultura ellenistica, quindi la società, l'economia, con la cultura e la lingua greca che si diffusero in tutti questi territori, ma anche in Italia, in un periodo durato circa tre secoli, dal 323 a.C., che è la morte di Alessandro Magno, fino al 31 a.C., data della battaglia di Azio, in cui Ottaviano sconfigge Marcantonio, conquista l'Egitto e formalmente inizia la fase dell'impero romano. Iniziamo, Alessandro Magno era morto nel 323 a.C., a soli 33 anni, come abbiamo visto nel video precedente, forse per una malattia improvvisa, la malaria, o forse addirittura per avvelenamento, da parte magari dei suoi generali, che avevano cominciato a mal sopportarlo dopo che si era trasformato in una sorta di despota. Dopo la morte del grande condottiero, quindi si apre un periodo di lotte per la successione. Alessandro aspettava un figlio da Rossane, però questo figlio ancora non era nato, quindi alcuni dei suoi generali volevano attendere la nascita di questo figlio, che ereditasse l'impero del padre. Altri generali invece appoggiavano il fratellastro di Alessandro, che però soffriva di alcune disabilità. Altri ancora invece volevano prendere loro stessi il potere. Quindi inizia un periodo di guerra tra questi generali chiamati diadochi. I diadochi sono i successori di Alessandro Magno, quindi i suoi ex generali, che durerà circa un ventennio fino al 301. E dopo questo periodo di lotte, l'impero comincia a essere spartito in diversi regni, governati proprio dai suoi ex generali, i diadochi. Dopo di questi invece verranno i loro discendenti, chiamati epingoni. Quindi i diadochi erano i successori di Alessandro Magno, in pratica i suoi ex generali. Gli epigoni invece sono i discendenti di questi ex generali. Per cui dopo questo periodo molto complesso nasceranno dei regni, che verranno poi chiamati ellenistici soltanto nell'Ottocento, proprio a sottolineare il grande influsso e la diffusione della cultura e della lingua greca in tutti questi territori. E il periodo che va appunto dal 323 al 31 a.C. viene chiamato ellenismo o età ellenistica. Il vasto impero di Alessandro Magno quindi viene diviso in diversi regni. Quattro sono quelli principali. Tra i più importanti sicuramente il regno di Egitto, affidato a Tolomeo, da cui nasce la dinastia dei Tolomeidi, che è anche il regno più duraturo, durato proprio fino al 31 a.C., quando arriveranno poi i Romani di Ottaviano. Era un regno molto ricco soprattutto per il grano. L'Egitto infatti diventerà il granaio di tutto l'impero romano ed era celebre per Alessandria d'Egitto. La città fondata dal condottiero ospitava la tomba dello stesso Alessandro, ma anche la biblioteca e il faro che vediamo dopo. Il secondo è il regno di Macedonia. Eccolo qui. La capitale era Pella e verrà governato dai discendenti di Antigono. Un pochino più tardi un altro ex generale di Alessandro, Pirro, fonderà il regno dell'Epiro, qui a sinistra della Macedonia, lo vediamo anche da qui. E questo Pirro voi lo ritroverete anche quando studierete la storia romana. Infatti Pirro si scontrerà contro i Romani che in questo periodo, stiamo intorno al 275 a.C., si stanno espandendo nella penisola italica e si scontreranno proprio con le colonie greche qui nel sud dell'Italia. Il regno di Macedonia finirà nel 148 a.C., quando verrà conquistato insieme a tutta la Grecia dai Romani. Il terzo è il regno di Siria, questo qui in giallo, governato da Seleuco I, da cui discende la dinastia dei Seleucidi, ed era, come vedete, sicuramente il regno più vasto, ma anche quello più instabile. Altra cosa che possiamo ricordare è che Antioco, il successore di Seleuco, fondò la città di Antiochia, che divenne la capitale del regno e una delle città più importanti dell'antichità. Il regno di Pergamo, invece, lo troviamo qui, molto più piccolo, però diventerà un importantissimo centro culturale, grazie soprattutto alla capitale Pergamo, per la sua biblioteca, qui verrà inventata la pergamena, ma anche per i fastosi monumenti della città. Il regno verrà governato dalla dinastia degli Attalidi. Altri piccoli regni li troviamo in questi territori della Turchia, ed erano quello della Bitinia, del Ponto dell'Armenia, e anche questi li ritroverete quando studerete l'espansione dei Romani. E possiamo ricordare anche l'isoletta di Rodi, molto importante sia dal punto di vista culturale ma anche commerciale. E vediamo un po' com'era la società, come si viveva in questi regni. Innanzitutto erano dei regni, quindi c'era una monarchia, con il monarca, con il re che aveva il potere assoluto. E qui, attenzione perché è molto importante, sicuramente ve lo chiederanno. Questi regni erano molto diversi dalle poleis greche. Nelle poleis, cioè Sparta, Tene, Tebe e così via, c'erano i cittadini, che partecipavano attivamente alla vita politica, prendevano decisioni. Qui invece gli abitanti sono dei sudditi, non partecipano attivamente alla vita politica, alle decisioni, ma le decisioni vengono prese totalmente dal monarca. Per cui gli abitanti hanno questa sudditanza, devono sottostare alla monarchia assoluta. Per cui si ripiegano maggiormente su se stessi, si rinchiudono in una sorta di individualismo. Si pensa di più a se stessi, invece che alla collettività. Essi cercano anche risposte nella religione, nella filosofia. Quindi si inizia a pensare anche alla vita dopo la morte, all'immortalità dell'anima e così via. Infine, al vertice di questa società, quindi nelle posizioni più elevate dell'esercito e dell'apparato statale, c'erano appunto i greci e i macedoni, che avevano escluso via via i governanti locali. Per quanto riguarda l'economia, invece, il commercio si sviluppò moltissimo. Le merci, le persone viaggiavano per tutto l'impero, sia via terra con le famose carovane, sia via mare con i principali porti che erano Alessandria d'Egitto, Rodi, Delo e così via. E proprio grazie a questi continui spostamenti la cultura greca si diffuse ovunque, ma anche il greco, la lingua. La lingua greca divenne quella ufficiale di questi regni. Era comunque una lingua colta, quindi non parlata da tutti, ma era la lingua usata per i documenti, per i trattati, negli scambi commerciali. Insomma, una lingua internazionale un po' come l'inglese di oggi. E infine, per la prima volta, si cominciava a provare questo sentimento di cosmopolitismo, cioè ci si sentiva cittadini del mondo, non più soltanto cittadini della città, della polis, quindi parte di qualcosa di più grande. Durante questo periodo poi sorsero nuove città, in Egitto, in Asia Minor e un po' in tutti questi regni. Abbiamo visto Antiochia, Pergamo, Alessandria d'Egitto ed altre, che venivano costruite sul modello delle polis greche. Quindi c'era la piazza centrale, la famosa agora, ma anche le terme, il ginnasio, gli anfiteatri, esattamente come nelle antiche città greche. E alcune di queste che vi ho appena citato divennero importantissimi centri di cultura e di diffusione del sapere. Per quanto riguarda la cultura, si diffuse moltissimo la filosofia non solo di Aristotele, che vi ricordo era stato anche il precettore di Alessandro Magno, ma nuove filosofie come l'epicureismo e lo stoicismo, e anche la filologia, cioè il recupero e la conservazione dei testi antichi. Ad esempio vennero recuperati gli antichi poemi di Omero, come l'Iliade e l'Odissea, e alcune di queste biblioteche si arricchirono di moltissimi volumi. Addirittura la biblioteca di Alessandro aveva oltre 700.000 testi. Ma si facevano anche nuove ricerche, nuovi studi scientifici. Nacquero ad esempio la teoria geocentrica di Ptolomeo, che vedeva la Terra al centro, con il Sole e gli altri pianeti che giravano intorno. Ma già più di 2.000 anni fa, Aristarco aveva capito che invece al centro c'era il Sole, mentre la Terra e gli altri pianeti vi ruotavano intorno. Tra le due teorie, però, ebbe successo quella di Ptolomeo. E, come sapete, bisognerà aspettare Copernico e Galileo, che dimostreranno invece che la teoria giusta è quella heliocentrica. Eratostene invece calcolò addirittura la circonferenza della Terra, cioè era riuscito a calcolare quanto fosse grande la Terra. E pensate che addirittura ci riuscì con un semplice bastone e un po' di semplice geometria. Il calcolo eccolo qui. Altri nomi superfamosi erano ad esempio quello di Archimede di Siracusa, per le sue tante invenzioni sulla meccanica, la vita idraulica, ma anche il famoso principio di Archimede. Il parco invece riuscì a calcolare la durata dell'anno, sbagliandosi soltanto di 7 minuti. E infine uno dei più grandi, Euclide, padre della geometria moderna. Infine le città si arricchirono di monumenti grandiosi nell'arte, ma soprattutto nell'architettura. Abbiamo già visto la biblioteca di Alessandria, ma anche il faro di Alessandria d'Egitto, alto più di 130 metri. E una piccola curiosità, oggi lo chiamiamo faro perché l'isoletta su cui sorgeva questa grande lanterna si chiamava appunto faro. Avevamo poi l'altare di Zeus a Pergamo e soprattutto il Colosso di Rodi, questa immensa statua in bronzo che si trovava proprio all'ingresso del porto nell'isola di Rodi. Per gli appassionati del trono di spade sicuramente avrete notato qualche somiglianza con la città di Braavos. Ultimissima curiosità che il Colosso di Rodi e il faro di Alessandria erano tra le sette meraviglie del mondo antico.